Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Albano Carrisi ha recentemente toccato nuovamente il delicato argomento della sua vita privata, focalizzandosi sul dolore persistente per la perdita della figlia Ilenia. Con Ilenia se n'è andata una parte della mia vita. A distanza di 30 anni, il suo nome mi provoca ancora brividi lungo il corpo. Non riesco a parlarne, c'è ancora un blocco in me. Anche se so dove è la mia figlia, il vuoto nel mio cuore persiste, ha condiviso con Verissimo. Albano ha riflettuto sui presunti errori commessi, confessando di avere rimorsi per non aver fermato Ilenia quando, da maggiorenne, aveva espresso il desiderio di recarsi in Belize per scrivere un libro sugli homeless. Ho voluto dire di no, ma lei non voleva sentire ragioni. Lei, con la sua straordinaria personalità, manca profondamente. Nonostante il destino mi abbia donato altri figli, nessuno riuscirà a colmare il vuoto lasciato da Ilenia. Rivolgendosi alla figlia Romina, Albano ha chiesto scusa per il divorzio e la sofferenza vissuta negli anni. Scusa e grazie perché mi hai regalato dei momenti incredibili. Da quando sei mamma, sei cambiata in positivo. Infine, ha condiviso il suo disappunto riguardo all'esclusione del suo brano di rose e di spine da Sanremo, non avendo ancora perdonato Amadeus. Non ho digerito l'esclusione. Amadeus non ha mantenuto la sua promessa. Mi è piaciuto essere ospite per quattro volte, ma Sanremo è soprattutto una gara che mi stimola. L'unico difetto è il tempo. Imporrei legalmente un limite. A mezzanotte basta. La gente il giorno dopo va a lavorare. Non possiamo permetterci due ore di spettacolo che finisce alle due. Ha concluso.